Troppi fuochi d'artificio stipati senza controllo per questo i finanzieri di Arezzo hanno sequestrato centinaia di chili di prodotti pirotecnici stoccati senza prestare le dovute attenzioni a incendi e scoppi. Nelle ultime ore le fiamme gialle hanno infatti sequestrato oltre 500 kg di articoli pirotecnici per un valore di milioni di euro in un esercizio commerciale nei quali i fuochi d'artificio venivano detenuti e stoccati illecitamente. In questo periodo di festività noi stiamo facendo dei controlli mirati nei confronti di esercizi commerciali che detengono fuochi d'artificio per la vendita al pubblico. Due i sequestri, un primo per un peso di 203 kg, un altro nel deposito invece per 340 kg di fuochi d'artificio privi delle cautele idonee a garantire la sicurezza dell'intero immobile. L'esercizio commerciale di Arezzo infatti deteneva articoli pirotecnici per un quantitativo superore a quello previsto dalla normativa di settore che non può superare una determinata soglia che è quella di 50 kg di materiale esplosivo netto. Per quanto riguarda invece il locale deposito ci sono delle cautele che devono essere prese in considerazione dal commerciante per evitare quelli che possono essere degli incidenti. I militari in tutto hanno sequestrato oltre 96 mila pezzi e denunciato il possessore per commercio abusivo di materie esplodenti. Possiamo immaginare come per un esercizio commerciale che non ha la licenza di pubblica sicurezza perché può detenere un limite proprio per questo motivo di fuochi d'artificio insomma era un numero elevato e quindi poteva essere veramente pericoloso detenerlo in quella maniera.